Sono venuto oggi in maniera molto semplice e diretta a venire a portare il mio supporto alla lista Green Italia Verdi Europei. Questa lista e i membri fanno parte integrante della Federazione dei Verdi Europei e partecipano a nostro combattato durante alcuni anni. Questa lista e i suoi membri fanno parte integrante della nostra, dei Verdi Europei e combattono da anni le stesse battaglie che combattiamo noi a livello europeo. Sono venuto molti combattanti e sono venuto in Italia per supportare il combattamento per esempio contro gli OGM qui. Sono venuto molto spesso in Italia per sostenere le campagne contro gli OGM in Italia. C'è grazie alla mobilizzazione dei Verdi in Italia ma anche in Francia che abbiamo fatto cambiare la legislazione e che arriviamo oggi a interdire gli OGM in Europa. Siamo riusciti con queste battaglie in Italia ma anche in Francia a cambiare la legislazione e a vietare gli OGM in Europa. E senza la mobilizzazione dei Verdi italiani, mai il referendum contro la privatizzazione dell'euro e mai il referendum contro l'euro nucleare. E senza questa mobilizzazione dei Verdi italiani non saremmo mai riusciti né a vincere il referendum contro la privatizzazione dell'acqua né quello contro il nucleare. Quindi per me venire in Italia non vuol dire solo venire a portare il mio sostegno alle liste ma anche venire a cercare della collaborazione per le nostre future lotte. Grazie. Grazie. Grazie.